Previsioni del tempo per giovedì 27 maggio su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. La presenza di correnti occidentali preluderà l'avvicinamento di un corpo nuvoloso che porterà un aumento della nuvolosità nel corso della serata. Giornata comunque in prevalenza soleggiata e calda pur con velature in transito. Temperature stabili o in locale ulteriore aumento. Venti moderati di libeccio, mari sino a mossi a largo. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Masse d'aria caldo-umida, oltre a favorire un rialzo termico, determineranno un parziale aumento della nuvolosità, in genere di tipo stratiforme, su tutto il territorio pugliese. Temperature stabili o in locale ulteriore aumento, con punte anche superiori ai 30 gradi centigradi sul tavoliere. Valori molto miti anche al primo mattino tra Altapuglia e Molise per venti di garbino. Venti fino a moderati tra sud e sud-ovest. Mari sino a mossi a largo.